7, 7 come i numeri dei libri di Harry Potter e come il mio numero portafortuna, oggi andiamo a vedere 7 portafogli che mi avete inviato un mesetto fa circa con la vostra composizione di criptovalute, con la vostra diversificazione come li avete creati, sono buoni o non sono buoni, quali sono i consigli che posso darvi io su questi 7 portafogli, ne ho scelto i 7 perché altrimenti il video veniva di 6 ore, ma sono stati tutti bellissimi i portafogli ragazzi, mi è piaciuto tanto questo esperimento, andiamo a farveli vedere uno per uno che cosa c'è dentro e commentiamo tutti questi portafogli, allora prima di andare avanti come sempre iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e poi ricordatevi che c'è anche il mio super nuovissimo canale instagram at tradingon.it, rinnovo a tutti l'invito ragazzi a stare attenti agli scammer su instagram che mi stanno clonando il profilo personale che tra l'altro non uso moltissimo ragazzi quindi non aveva molto senso questa clonazione, forse hanno sbagliato, però ragazzi mi raccomando non vi fate fregare da questa gentaglia, l'ho già detto nel precedente video, segnalatelo a instagram che già da 3-4 giorni lo stanno segnalando tutti, ma non cancella questo profilo come sempre, senza senso, diciamo questo tipo di controlli sui social, va bene? Allora andiamo a vedere i portafogli iniziando dal primo. Ed eccoci ragazzi, allora primo portafoglio in questione, allora il portafoglio di Antonio, allora mi scrive buongiorno Mauro, grazie per i tuoi video, per i tuoi video, per i tuoi italiani ti seguo e ti ripeto più intelligente, grazie Antonio, intanto ti scrivo le percetture del mio portafoglio, poiché Mercati Hold al momento faccio poco, insomma grandi complimenti come sempre, andiamo direttamente a vedere però come Antonio ha fatto il suo portafoglio. Allora ragazzi, abbiamo euro su Nexo, quindi 55% di euro su Nexo e del suo portafoglio generale da settembre, poi insomma ovviamente ha detto ho bisogno di euro perché devo comprare la casa, poi BTC 30,6%, ETH l'11,77%, BNB l'1,33% e poi Solana 1,24%, la possibilità è, mi chiede dice è bilanciato o non è bilanciato, ragazzi allora questo tipo di portafoglio è il portafoglio che ho scelto come portafoglio straprudenziale che possiamo ragionare in questa ottica, allora questo è un portafoglio creato sulla valuta di riferimento euro con l'aggiunta di un investimento in cripto come booster, ok? quindi come una parte che ci possa dare un boost sul rendimento creato sugli euro. Quindi Antonio ha fatto un portafoglio che non è un portafoglio di criptovalute come lo intendono ad esempio gli holder di criptovaluta ma è un portafoglio da investitore quasi come mercato old, quindi old economy, ma in realtà hai utilizzato i servizi cripto per poter avere un boost di rendimento, quindi stai utilizzando Nexo che ti dà un lending e però il capitale è molto più a rischio magari di una banca classica però, o almeno così dovrebbe essere ragazzi, poi è un po' opinabile questa cosa, secondo voi? Sono più a rischio le banche classiche o le banche cripto? Scrivetevi nei commenti e facciamo una super polemica su questo argomento, va bene? Allora, questo tipo di portafoglio è un portafoglio secondo me intelligentissimo per chi nel mercato old vuole ragionare utilizzando le criptovalute ma non investendo solo in cripto, quindi mantenendo una valorizzazione in euro per una buona parte, quasi il 60%, poi utilizzando criptovalute a mo' di investimenti speculativi per aumentare i propri rendimenti, quindi questo portafoglio l'ho inserito perché lo ritengo pure molto bello proprio per questo motivo, ok ragazzi? Quindi prudenziale ma valutato in valuta euro, quindi non un portafoglio cripto ma un portafoglio stile old economy, ok? Secondo portafoglio ragazzi in tema è quello di Zaro che intanto saluto e anche ringrazio quindi dopo insomma le prime righe, questo portafoglio l'ho voluto inserire perché per gli amanti di bitcoin, quindi un portafoglio totalmente incentrato su bitcoin, quindi abbiamo in pratica alcune figurazioni che adesso vi faccio vedere ma in pratica ragazzi è tutto quanto su bitcoin, questo tipo di portafoglio, eccolo giusto per chiaretta ragazzi, bitcoin 94.71%, il resto è nexo perché probabilmente sta facendo la sefai di nexo, ragazzi a proposito della sefai di nexo vi lascio il link in descrizione che c'è anche un bonus di 10 dollari se la che utilizzo insieme a yield per esempio e da poco sto utilizzando anche celsius per fare un test perché non l'avevo utilizzata tantissimo, anche perché come vi ho spiegato uscirà un video sul vero utilizzo quindi non sulle chiacchiere diciamo e le idee generali ma dopo un anno utilizzo appunto su tutti i servizi sefai. Allora ragazzi questo tipo di logica portafoglio solo btc, giusto o sbagliato? Allora non c'è una risposta, sicuramente giusto se ti piace bitcoin, sicuramente sbagliato da un punto di vista di investitore professionista perché manca del principio della diversificazione quindi molto semplicemente, però non vuol dire sempre che essere sbagliati da un certo punto di vista teorico possa essere poi magari un errore grave, non è del tutto così perché per esempio io sono stato quasi sempre investito solo su bitcoin e da un annetto e mezzo due che ho messo eth per esempio nel mio portafoglio per una questione classica legata ad esempio alla visualizzazione del grafico quindi eth più performante degli ultimi due anni rispetto a bitcoin e poi ho inserito alcune cripto con dei portafogli ma sempre collegati ai trend system proprio perché anche io come te Sara non mi fido tantissimo delle cripto in generale quelle più piccole e quindi le ho affidate a una macchina che tratta al posto mio quindi lo uso a livello di trading però questo è un tipo di portafoglio per chi vuole essere un investitore cripto senza avere però magari quel batticuore delle più piccole criptovalute più piccole perché la differenza è che il tuo portafoglio è estremamente più prudenziale sempre nell'ambito cripto rispetto a qualsiasi altro tipo di portafoglio proprio perché non hai la volatilità delle altcoin questa è la differenza quindi da una parte ti sei giocato l'extra rendimento eventuale che le altcoin possono dare abbiamo visto nella si sono di 2021 gli altcoin hanno performato benissimo alcune ovviamente quindi ti giochi quel rendimento che può essere a volte anche notevole rispetto a un portafoglio only pc ma nello stesso tempo se per caso le cose girano storte sicuramente perderai molto di meno rispetto a chi ha un portafoglio di altcoin quindi questo portafoglio cripto prudenziale ok andiamo alla terzo portafoglio ragazzi questo è già più elaborato e di matteo ciao matteo grazie intanto per aver partecipato a questa a questo super video allora 45 per cento btc dice 7 per cento e th poi abbiamo 9 per cento e ad a e dot più o meno siamo simili 5 per cento ftt tipo il cr o poi c'è luna solana e gld e rune e poi abbiamo ecco questi sono simpaticissimi questi investimenti che hai fatto nella defi pulse index e in mbi quindi metaversi index allora come diviso questo tipo di portafoglio ecco già questo è un tipo di portafoglio da investitore nel settore cripto un po più elaborato se non che hai dei replicatori di eth quindi tutta piattaforma diciamo sostanzialmente molto vicina eth che sono ad e dot ma è anche giusto perché hai dimezzato quello che è il l'investimento ad esempio di eth quindi questo tipo di portafoglio è già un portafoglio diversificato su più progetti e mono diversificato su settori quindi hai la blocce di bitcoin quindi bitcoin poi hai settore smart contract per la stragrande maggioranza perché sono quasi il 27 per cento quindi insieme alla 45 e di bitcoin fai un 72 per cento di investimento orientato quasi tutto su smart contract e bitcoin ci sta ci mancherebbe poi abbiamo alcuni cripto che invece magari hai tentato relativamente a alla utility token quindi effetti cero e poi abbiamo quelle che invece possono mettere il pepe solana luna tra l'altro hai prese e gld e rune allora tutti questi tipi di investimenti sono corretti e coerenti per un tipo di portafoglio ben gestito ben diversificato e che punta in sostanza a non essere iper speculativo perché utilizzato degli investimenti piccoli per esempio su coin speculative come luna estolana però allo stesso tempo non ti sei voluto tenere fuori quindi ti sei preso il defy pulse index ok perché ovviamente un indice quindi è meno volatile della singola coin e insomma allora complimenti questo matteo sicuramente è un ottimo portafoglio magari l'hai fatto in base alle tue aspettative ma sicuramente ha un'ottima diversificazione quarto portafoglio sulla stessa scena del terzo ragazzi perché anche questo è un portafoglio molto ben diversificato anche se sergio dice che è un neofita ma in realtà non sembra così perché il tuo portafoglio è veramente ben diversificato 50 per cento btc e th al 25 10 sonana 10 dot 5 matic allora qui ragazzi poi ha anche inserito altre alt coin diciamo un po più speculative dove vorrebbe puntare allora questo tipo di di portafogli sono quelli legati al cosiddetto minimalismo no quindi abbiamo un tipo di portafoglio che è estremamente ben diversificato su pochissime coin però quindi abbiamo un 50 per cento sul re e poi il resto è scaglionato per bene quindi semplicità alla bassa di un portafoglio del genere hai preso anche solana e matic hanno fatto il botto c'hai dentro th va benissimo c'è tutto d'otto che se th non magari performa benedotto comunque potrebbe essere un progetto ghiotto non l'hai sopra performato perché ne hai messo il 10 per cento insomma è ben diversificato con semplicemente cinque cripto valute questo è anche un portafoglio che ci dice come si può far bene in questo settore come si può far bene in generale negli investimenti senza dover magari andare a cercare quella iper diversificazione soprattutto se i capitali non sono tantissimi andando a prendersi i 100 euro di una coin che non vi fanno alcuna differenza soltanto casino e confusione nella vostra testa bravo Sergio mi piace e ovviamente si sposa anche con il mio minimalismo da trader quindi ottimo questo tipo di portafoglio ok andiamo al quinto portafoglio poi gli ultimi due già ve lo dico sono portafogli femminili tutti femminili che sono anche top quindi mi è piaciuto anche portarli perché veramente anche per far vedere come in questo settore ci sono anche tantissime cioè diciamo interesse anche da dalla parte femminile per quanto riguarda il settore investing allora questo invece il quinto portafoglio è di Silvio ancora una volta si sposa con quello che abbiamo detto prima con l'utilizzo di pochissime coin 1 2 3 4 5 6 e 7 che in pratica vanno a diversificare leggermente questo portafoglio ci sono però in questo caso Silvio secondo me due errori tra virgolette ecco li metterei come errori tra virgolette perché l'uno è concatenato all'altro e mi riferisco alla presenza di bitcoin cash e dei questo un per cento su band che ha poco senso diciamo ma che potrebbe appunto concatenarsi quindi passando il 2 per cento di bitcoin cash alla band come cripto allora perché questo portafoglio è molto ben fatto ma questo errore bitcoin cash è correlato a bitcoin in maniera quasi molto stretta e poi in sostanza scende molto più di più di bitcoin quindi allora se vai a guardare il lato grafico avere una cripto valuta secondo me parallela bitcoin quasi gemella è un forte bitcoin quindi è come avere la icone stessa cosa e tenerla in portafoglio va bene però vai a guardare il grafico relativo con bitcoin cioè se hai un grafico relativo con bitcoin positivo e questo significa che bitcoin cash cresce rispetto a bitcoin quindi ha una pendenza se tu guardi il grafico bch su btc deve avere una pendenza positivo un trend positivo se cresce allora quel punto anche senso che tu mantieni questo tipo di portafoglio questo tipo di coin tenendo il tuo portafoglio altrimenti che senso ha questa è la questione perché non ha nessun senso tenersi una cripto valuta praticamente identica bitcoin in termini di progetto quasi identica che cresce anche di meno rispetto a bitcoin quindi secondo me questo insomma è un piccolissimo errore che pesa il 2 per cento quindi praticamente niente su questo tuo portafoglio che a questo punto potresti spalmare mantenendo su bende al 2 per cento insieme ave e chain link e magari dandogli un altro tocco di un per cento a cardano per esempio rispetto a etia quindi sarebbe caruccio sistemare questo un per cento su bende l'un per cento sul cardano e togliere totalmente bitcoin cash perché appunto per fare questo ragionamento diverso se invece avesse un trend positivo contro bitcoin come ad esempio ti ha che ti ha con trend positivo contro bitcoin allora è giusto perché no mantenere anche un 2 per cento su questo tipo di progetto a mo di speculazione ed eccoci arrivato al sesto eccoci arrivato al sesto portafoglio questo è quello di in aria tra le altre cose quindi un portafoglio al tutto al femminile ma che portafoglio ragazzi quasi perfetto non mi piace solo una cosetta e magari qualcuno di voi qui lo vedrà e già starà sorridendo ma adesso te lo dico però come ben diversificato è un portafoglio molto speculativo adesso vi dico perché ha il 20 per cento su btc 10 per cento il 20 per cento su eth 15 su matic 15 su solana 10 su dash 10 su luna e poi ai 10 su ada a xs dodge e alice allora alice non la conosco tra le altre cose questa cripto mi manca non la conoscevo va bene allora qual è la questione di fondo allora questo tipo di portafoglio a una è il primo che guardiamo oggi ragazzi insetto ma il primo di questo tipo cioè è molto speculativo molto spinto verso le cripto valute va bene per per esempio portafogli piccolini io direi massimo intorno ai 20 mila dollari 20 mila dollari forse ok già da 30 in su poi ovviamente molto soggettiva questa cosa ridurrei questo tipo di rischio perché perché hai bilanciato in maniera equa e identica btc con eth e poi hai messo addirittura matic solana più o meno allo stesso livello di bitcoin ora cosa succede allora se le cose vanno bene c'è un alt season questo tipo di portafoglio per forma da dio perché poi hai l'uno al 10 per cento a da un altro 10 misto con dodge che comunque insomma ok e dash che possono essere speculativi ma è proprio questi due che sono l'errorino a parte questa coin alice che non conosco insomma ma sono questi due gli errorini che secondo me non vanno messi in un portafoglio di lungo periodo e però insomma ai matic solana e luna e ada che comunque sono molto speculative rispetto a bitcoin quindi ai momenti in cui dovessimo assistere a una nuova alt si sono questo portafoglio che sicuramente sovra performa il benchmark che è bitcoin in questo caso ma se le cose dovessero andare un po maluccio nei prossimi mesi fai molta attenzione perché soprattutto progetti come luna e matic potrebbero risentirne tantissimo in seconda analisi anche solana e infine pure e th ragazzi sicuramente molto più volatilità rispetto a bitcoin l'abbiamo già vista maggio quando il re ha stornato questi progetti hanno fatto il doppio delle perdite di bitcoin questo è molto significativo questo significa che probabilmente se le cose vanno male girano male ti ritrovi a perdere il doppio rispetto ad avere bitcoin quindi un portafoglio che va bene per un nuovo ciclo annuale come siamo adesso se le cose girano benissimo che ancora non siamo proprio fuori pericolo lo sapete ne ho parlato più volte però va bene e ci sta perché stai puntando una una bella scommessa nella parte di insieme al ciclo annuale ma se le cose non girano bene questo portafoglio va rivisto comunque un buon portafoglio anche qui un'ottima diversificazione io sono contento ragazzi perché siete stati tutti bravissimi quando mi avete mandato questi portafogli sono tutti ben fatti non ho trovato cose stranissime in questo c'è dash il 10 per cento e dodge non so quanto ne hai la domanda è molto semplice dash perché ok ok questi sono tipi di progetti di natura speculativa usati per fare trading anche d'oggi io c'è un train system attaccato ad oggi ma che c'è nel senso lungo periodo perché ok quindi mi raccomando questo tipo di logica fate attenzione non vi affezionate alle coin usatele come strumenti ok non bisogna essere affezionati agli strumenti ok ultimo 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 sistema ultimo portafoglio quello di anna allora vabbè anna mi scrive insomma che lei è iniziato da poco tutti gli erroroni che ha fatto eccetera eccetera come tutti quelli che iniziano senza formazione sul trading ma io la domanda è perché se ve lo diciamo da anni che se fate investimenti di una certa portata senza esservi formati rischiate capocollo come diceva lino bampi ragazzi perché lo continuate a fare va bene ricordatevi che la formazione per quanto possa essere costosa ma è gratuito rispetto a quando il mercato vi andrà a penalizzare perché se andate a investire grosse cifre e li perdete il mercato vi batosta altro che costo della formazione con la formazione quel capitale lo recuperate venti volte trenta volte che non è un costo va bene la formazione non è mai un costo soprattutto nel settore finanziario perché poi se avete mille dollari allora ok ragazzi però se avete grandi cifre formatevi prima è fondamentale comunque è anche giusto fare gli errori sul mercato quindi ti dico anna ok che hai fatto benissimo a fare sulla tua pellaccia questi errori perché non si dimenticano mai e questo è molto 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 importante allora andiamo a vedere questo super portafoglio come l'hai costruito allora vediamo se riesco a farvi vedere perché la foto un po più grande diciamo dello spazio ok ragazzi allora abbiamo un portafoglio creato così quindi ci ho messo dentro e th btc ok ci siamo e th btc ad adot xrp solana xlm cro link cake trx allora questo portafoglio che ho voluto mettere perché è il classico portafoglio che spesso io mi sono ritrovato a dover analizzare quando qualcuno di voi mi ha diciamo portato avanti diciamo la sua questione legata ai portafogli allora sembra un portafoglio casuale cioè probabilmente non c'è una strategia di fondo nella realizzazione di questo tipo di portafoglio bensì è un portafoglio che quasi sicuramente hai creato perché semplicemente un giorno hai sentito parlare di quella cripto un giorno hai sentito parlare di quell'altra cripto non lo so lo dico così a mio fiuto mio naso mi sembra portafoglio di natura casuale va bene il 40 per cento su e th in questo tipo di portafoglio 30 per cento su btc non è malvagio ma perché non sei vicino proprio lontano da et h mi sta bene anche ad e doto per il concetto che magari puoi diversificare il settore dei smart contract su altri tipi di progetti il resto non lo capisco ai xrp xlm ci possono stare il cr o che è un utility token ma poi non hai altri utility token e quindi o ce l'hai per la carta oppure non so perché ce l'hai ok o fai come mezzo ma io li tengo per la carta ovviamente ho provato insomma le varie file oro ma non sono molto dispatto del cr o in genere non di critto.com che invece funziona da dio ma ma il cr o diciamo come investimento un po strano ai cake la stessa questione legata al cr o non so trx che non mi piace ma mi è piaciuta poi c'è un po di link solana ci sta allora questo portafoglio totalmente spinto su et h però poi il resto delle coin non sono di natura speculativa per esempio quindi se tu fai un portafoglio di et h che poi mi ci metti dentro solana matic che va bene ce l'hai poi ci metti dentro non so dei progetti piccoli che puoi fare il boom perché magari ci potrebbe anche stare ma qui ci sta xrp xlm che non non capisco trx che non capisco cioè non capisco la logica di questo portafoglio mi dà un po l'impressione di essere stato fatto un po a caso oppure con quello che ti era rimasto e magari non vuoi vendere perché magari sei ancora in perdita su queste coin eccetera allora riparti da zero ristabilisce il tuo portafoglio secondo quelli che sono i concetti di rischio il concetto di volatilità del mercato quante volatili e th rispetto a btc il doppio quante th a da rispetto a btc il doppio più qualcosa quante e volatili e solana rispetto a btc il doppio più qualcosa più qualcosa ok man mano che si va a scendere con la capitalizzazione le altcoin sono più volati btc in termini appunto percentuali che per esempio molto volati rispetto a btc eccetera e poi ridefinisci questo portafoglio non in base al fatto se vinci o se perdi se sono vecchie strutture vecchi investimenti ma semplicemente in base a una logica che sia coerente con il tuo profilo di rischio se sei molto iper rischiosa va bene anche un portafoglio del genere però ribilancia a questo punto togliendo magari delle cripto che sono un po così messe lì xlm xrp non so se magari ti piacciono questi progetti ma sono fermi veramente da anni magari aspetta forse un'inversione di grafico per entrare diciamo potrebbe essere interessante una cosa del genere sotto performano bitcoin da un sacco di tempo ogni tanto hanno questi spunti rialzisti ma poi sono manipolazioni perché fanno boom e poi rientrano giù quindi sono palesemente manipolazioni non so sono l'anno va benissimo gli altri insomma ci stanno link ok anche se negli ultimi hanno fatto poco trx non ha senso che solo se stai minando gli others vedo un 7 per cento non so cosa sia quindi saranno le minuzie di altre cripto valute sparse chiudi questa roba e focalizzati con un portafoglio un po più minimalista un po più orientato magari a a fare delle insomma ad essere un pochettino più indirizzata più con focus va bene ragazzi allora è un super video un po lunghetto ma ci sta perché comunque un commento ai portafogli ho voluto portare i setti perché me ne avete mandati quasi un centinaio quindi ragazzi ho dovuto fare una scelta per oggi è tutto noi ci rivediamo nel prossimo video cosa ne pensate voi scrivetemelo nei commenti come sempre ti è piaciuta una cosa del genere è figo no a me è piaciuto tantissimo perché secondo me analizzare quello che fate poi direttamente può essere anche un grande strumento per fare formazione perché ciao a tutti alla prossima ciao